Confartigianato Donne Impresa ha organizzato venerdì 22 giugno presso il Circolo Ravennate dei Forestieri il seminario Sicurezza Donna, dialogo a tutto tondo sul tema della sicurezza. È stata un'iniziativa organizzata dal Movimento Donne Impresa di Ravenna in occasione del rinnovo del Consiglio e a me ha fatto molto piacere partecipare. Parlare di donne, di sicurezza, sicurezza a 360 gradi è sempre più importante? Sì, assolutamente sì, perché abbiamo sentito gli interventi che sono andati dalle violenze alle donne piuttosto che il discorso psicologico, il discorso bancario e anche quello imprenditoriale che ha trattato la Presidente Emanuela come anch'io. Quindi assolutamente a 360 gradi. Le donne parlano alle donne di sicurezza? Sì, ma in realtà noi parliamo a tutti, non è che parliamo solo alle donne. Non bisogna sempre ghettizzarsi da soli, no? In realtà noi quando parliamo di impresa parliamo di un'impresa neutra. Poi ci sono delle problematiche che le donne hanno in più rispetto a cose che però tra l'altro negli ultimi tempi anche i giovani imprenditori stanno vivendo sulla propria pelle perché vivono insieme alle mogli le problematiche che poi colpiscono un po' tutta la famiglia e di conseguenza sia il mondo femminile che quello maschile. Sara Pietracci per Ravenna Web TV